Mi sto trovando piano bene, sono arrivato che ero un po' dietro di preparazione, venivo da un infortunio abbastanza importante, con il duro lavoro piano piano sto entrando in forma. Sono arrivato qua con la voglia di mettermi in gioco, di dare una mano a raggiungere il nostro obiettivo che è la salvezza. Credo che, come hai detto anche te, abbiamo provato a proporre il nostro gioco, abbiamo fatto quello che ci ha chiesto il mister di fare. Purtroppo il primo gol ci ha dato veramente fastidio, non ci ha tagliato le gambe, però ci ha fatto andare in sbagliatoio abbastanza arrabbiati. Nel secondo tempo abbiamo sperato di recuperarla, credo che giocando veramente bene, meglio, però poi è arrivato anche il secondo gol e è diventato tutto più difficile. Però credo che oggi abbiamo proposto un bel gioco, abbiamo giocato in un modo molto più offensivo e credo che se continuiamo su questa strada con la voglia che abbiamo noi di salvarsi diventa, non dico che diventa facile, però non diventa neanche troppo difficile. Io ho trovato un gruppo veramente stupendo, un gruppo così è veramente difficile da trovare, mi sono sentito subito a mio agio perché i ragazzi veramente mi hanno fatto sentire uno di loro dal primo giorno. Noi ci crediamo, tutti loro sono tutti convinti che ce la facciamo, non ci costa niente a sognare, quindi la salvezza sarà il nostro scudetto. Grazie. Grazie. Grazie.